Ciao amici delle spettatori e benvenuti nella rubrica delle riconciliazioni Questa sera per la nostra rubrica delle riconciliazioni abbiamo un ragazzo di Marsala, esattamente di Petrosino che si vuole riconciliare con un amico o con un'amica o addirittura con una famiglia Perché? Questa storia inizia come? Ve lo presento subito, lui si chiama Massimo, ciao Massimo Ciao Allora tu Massimo di dove sei? Di Marsala, Petrosino Di Petrosino Quanti anni c'hai? 29 Allora Massimo, raccontaci, com'è nata questa amicizia con questa famiglia o con questo tuo amico? Tramite un altro amico mi hanno fatto conoscere questa famiglia e abbiamo avuto dei rapporti diciamo abbastanza bene Fin quando... Dei rapporti diciamo fraterni? Sì Frate e questo ragazzo? Sì, per me ero come una seconda famiglia, mi ritrovavo come una seconda famiglia in tutti i sensi Cioè uscivate insieme, mangiavate insieme, passavate alle feste insieme Sì, sì, sì La domenica, il sabato Quando ero libero io e quando erano liberi loro soprattutto Niente Tu sei singolo, vero Massimo? Sì Per cui per te avere un'amicizia con una famiglia per te è importante Ci tengo abbastanza Certo Poi come praticamente, com'è successo la lite? Non lo so, la moglie in tutto un tratto non vuole più che io entro a casa sua Però non so le motivazioni A frequentare il marito? A frequentare sia la famiglia, non solo il marito Perché a me, cioè, mi interessava l'amicizia sia del marito che della moglie Certo, di tutta la famiglia Mi sento bene, diciamo, in quella famiglia Mi sento a mio agio Però adesso non vuole più che io vada da loro Certo Non solo in motivazione, quindi sono qua per dirgli Penso che saranno magari le cattive lingue delle persone Ma non lo so Avranno detto magari a lei qualcosa che non è vero Lei deve credere a me, cioè, l'amicizia è sincera, quindi deve credere sia a me che a suo marito Tu con suo marito ti sei sentito? Sì e no, certo Avete parlato di questo problema Però non sappiamo quale sia il problema reale Cioè non sapete praticamente la motivazione della moglie La motivazione della moglie Che gli ha negato soprattutto di vedere a te Sì Non sappiamo la motivazione quale sia Si può presumere che sia le cattive lingue, giusto? Ma penso di sì Va bene Quindi sono qua per dirgli, per porgli le mie scuse Che, cioè, non c'è niente Da quanto tempo è che frequentavi questo ragazzo? Da 3-4 mesi Da 3-4 mesi Sì E c'è nata una bella amicizia Durante la frequentazione siete diventati amici e fraterni Sì Vi frequentavate Sì Cioè c'è da una vicenda Cioè tutto quello che si poteva Si può fare con un amico Esatto E tutto da un altro per la moglie Praticamente avete dovuto troncare tutto Sì Troncare relativamente Perché cioè non so cosa gli hanno raccontato la moglie Cosa è successo Cosa è non successo Lui vuole delle spiegazioni Però lei non gli dice nulla Quindi cioè io sono qui per dirgli proprio le mie scuse E che ritorni sereno come una volta Certo Va bene Massimo Tu sai come va la cosa Noi di Strana Amore Siciliano Ti mettiamo a disposizione la nostra telecamera Tu praticamente puoi parlare con questa ragazza Rivolgendoti alla telecamera Come se questa ragazza fosse di fronte a te E puoi dire praticamente tutto quello che senti Come se lei ti ascoltasse Va bene Con la speranza magari che lei si guardi la trasmissione E ti veda Ok Vai Massimo Io sono qua giunto a questo punto Solamente per dirgli scusa a quella persona Se sa chi è Mi rivolgo Non ho parole da poter dire Cioè solamente se ho sbagliato Parliamoni Parliamo O discutiamo Però io In me mi sento pulito Quindi ti porgo le mie migliori scuse Cioè non ho più niente da dirti Solamente scusa Sono qui per dirti Tutto quello che vuoi Sai come rintracciarmi Sai il mio numero Quindi Fai tu Tutto qua Va bene Massimo E parlo con questa persona Come la possiamo chiamare Magari non diciamo il nome vero Magari per non creare Come la possiamo chiamare La chiamiamo Roberta? Roberta Allora mi rivolgo a Roberta Roberta Massimo ha fatto un grande passo Un passo molto importante Ha avuto un coraggio Un coraggio veramente grande A salire sul camper Di stranumori siciliano Per farti questo videomessaggio Per cui Ascoltalo Perché Massimo è davvero Davvero Come dire È davvero Convinto Di farti le sue scuse Che posso dire Se Massimo ha fatto qualcosa Magari di male Perdonalo Perché per lui Avere un'amicizia con una famiglia Frequentare Insomma Frequentare qualcuno È importante Perché lui È singolo È stato sempre solo Per cui significa molto Per lui È un punto di appoggio Più che altro Certo Diciamo che mi ritrovo loro Esatto Per cui Roberta Se stai ascoltando Questo videomessaggio Telefona a Massimo E cercate magari Non so Di discutere la cosa Magari di parlarne E di trovare Un punto di Insomma Di accordo Ok Roberta? C'è altro? No no Completamente Vabbè Amici delle spettatori Per la rubrica Delle riconciliazioni Alberto vi ha presentato Massimo di Petrosino Che ha fatto questo Videomessaggio Per il suo amico E la sua amica Praticamente Roberta La chiamiamo Ok Alberto ripeto Vi saluta E vi saluta anche Ciao Massimo Ciao amici A dopo Ciao 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 Ciao